Un volto decisamente più sorridente rispetto a quello di domenica scorsa, anche per te, perché in concomitanza della vittoria sono arrivati due risultati vantaggiosissimi. Questo sicuramente oggi al di là della buona prestazione che abbiamo fatto, dove siamo andati in vantaggio, abbiamo controllato contro una squadra ostica e poi l'abbiamo chiusa con la perla di Banegas. È chiaro che non ci aspettavamo questi due pareggi delle nostre battistrada con Matese e Vasto Girardi, però questo è a testimonianza che se noi perdiamo a Sora anche le altre possono perdere punti come era successo la scorsa settimana. È tardi? A noi non interessa, ci mettiamo sotto, mettiamo subito, accantoniamo questa partita con il Fossombrone, contenti e soddisfatti, ma ora testa a un derby difficilissimo e mancano sei partite, quindi giochiamocelo di tutta. Direttore, ovviamente la forma fisica comincia perché siamo nel finale di stagione un po' a scendere, però queste energie mentali possono dare l'aiuto giusto, mai abbandonare la speranza, crederci sempre e oggi è stata una gara che ha dimostrato tutto ciò perché la squadra dal primo minuto fino alla fine ha tentato di portare a casa i tre punti. No, assolutamente, i ragazzi oggi sono stati bravi, hanno messo sicuramente tutto l'impegno che era necessario per vincere una partita così insidiosa perché, ripeto, il Fossombrone magari in questo periodo è un pochino in calo, ma è una squadra che vale la classifica che ha, quindi sicuramente squadra molto complicata da affrontare, l'abbiamo affrontata bene, ma ripeto, la cosa importante è che l'Aquila dà una risposta, non molla e fino alla fine cercherà di fare veramente più punti possibili, poi come ho sempre detto, come la società, il mister, i conti li facciamo alla fine. Direttore, una partita a risposta secca che vorrebbe rigiocare immediatamente di quelle passate? Immediatamente? Guarda, io giocherò subito la partita con l'Atletico Ascoli con questa mentalità perché perdere al 95esimo ci ha fatto male.